Parliamo della sesta edizione di Route 21, il giro in moto che partirà, se ben ricordo, il 3 di settembre. Sì, 3 settembre, partenza da Lignano Sabbiadoro per la sesta edizione della Route 21, con la durata dei soliti 30 giorni, con 8 ragazzi al nastro di partenza. 8 ragazzi che sono ragazzi con la sindrome di Down? Sì, 6 con la sindrome di Down e altri due ragazzi che comunque sono stati resi speciali da qualche altra situazione. Per cui la Route 21 nasce come progetto dedicato a ragazzi con la sindrome di Down, ma poi via via nel corso degli anni è diventato un progetto di comunicazione sociale che comunque ha fatto in modo che altre persone si avvicinassero a questa strada. Dobbiamo dire che ci sono anche dei ragazzi che possiamo ritenere le figure storiche di questo evento? Sì, quest'anno partiranno 6 ragazzi che avete già visto nelle precedenti edizioni e si sono aggiunti due nuovi elementi. Lo zoccolo duro della Route 21 comunque rimangono i 5 che da 6 anni praticamente fanno parte del team di ragazzi, di motociclisti. Motociclisti che tra l'altro grazie a questo tipo di avventure e di evento sono diventati anche molto più sicuri e molto più liberi. Allora partendo dal presupposto che la nostra iniziativa sociale si occupa della normalità, quindi non ci sentirete mai parlare di questi ragazzi nell'eccezione della loro malattia, ma noi partiamo da un presupposto di normalità in cui questi ragazzi si svelano e possiamo chiaramente capire che attraverso la loro normalità qual è la fatica che loro compiono ogni giorno per vivere una vita cosiddetta normale. Quando arriverete a Crotone? A Crotone arriveremo il 28 settembre, 28 e 29 settembre dovremmo essere a Crotone, salvo modifiche dell'ultimo momento perché comunque dover coordinare 32 località, 32 tappe in 30 giorni ogni tanto si necessita di un piccolo ritocco in corso d'opera. A chi sarà dedicata questa sesta edizione? Isabella Messina, che è l'ispiratrice di questo viaggio. È scomparsa due mesi fa per il Covid.